ciao da radioparco buonasera e buon venerdì 17 marzo 2023 davanti questo cielo come sapete ci piacciono alcuni momenti della giornata il tramonto è uno di quelli che cattura la nostra e l'altrui attenzione davanti questo cielo mandiamo un saluto a chi segue il nostro progetto di comunicazione dedicato al parco nazionale d'abruzzo lazio e molise il cielo di oggi venerdì 17 ci ispira questo messaggio contro la scaramanzia perché appunto il venerdì 17 per qualcuno è sempre un momento una coincidenza antipatica sfavorevole non è il nostro caso oggi anche san patrizio mandiamo un saluto a chi porta il nome di questo santo oggi anche il la giornata dell'unità nazionale della costituzione dell'inno e della bandiera vi sveliamo anche dove siamo siamo dinanzi al cielo di monte delle vitelle stazione scistica di pesca seroli dove la neve ormai ai minimi termini sarà l'ultimo fine settimana per chi vorrà sciare in questa località scistica appunto gli unici rumori che si sentono a quest'ora sono quelli di qualche cornacchia di qualche uccellino e poi le bandiere sentiamo sventolare le bandiere che a proposito di bandiera di tricolore insomma sono le nostre spalle per il resto c'è molta quiete qui perché appunto sarà l'ultimo fine settimana per chi ama lo sci alpino impianti aperti tranne tranne uno una seggiovia e ancora la possibilità di stare sulla neve rimasta in questo weekend di sabato 18 e domenica 19 che sarà anche la festa del papà c'è naturalmente ancora neve sulle montagne per fare escursioni e questo sicuramente è uno degli inviti che facciamo alle persone che seguono il nostro progetto quindi godetevi ancora questa neve di marzo anche perché le temperature sono ancora diciamo non del tutto primaverili e sono ancora da fine inverno soprattutto in questi ultimissimi giorni e però godibilissime le iniziative che si possono effettuare per per la montagna e per gli amanti della montagna e con questo vi mandiamo un saluto da qui noi rimaniamo ad ammirare ancora un pochino questo cielo così attraente con pochissime nubi sono arrivate da poco perché oggi è stata una giornata di azzurro da queste parti vi auguriamo la buona serata vi auguriamo il buon weekend soprattutto se verrete a trovarci ciao da radioparco ciao